Il capoluogo Sabino L'avvenimento di Rieti Cuore Piccante 2015 Per cui noi abbiamo ideato un piatto per l'occasione, come dicevi tu prima, sono dei bottoni all'arrabbiata, una pasta all'uovo tipo un raviolo con dentro un sugo della classica ricetta della pasta all'arrabbiata. E quando diciamo arrabbiata ovviamente includiamo l'opzione del peperoncino. Con dentro il peperoncino e per l'occasione il peperoncino sabino che alla quarta fioritura per l'occasione l'abbiamo inserito in questa ricetta. C'è una brunoise di pomodori ciliegini sopra e una spuma di pecorino alleggerita che fa da composizione del piatto e una cristallizzazione di prezzemolo. Quindi una ricetta che sembra complicata ma in realtà è solo una rivisitazione di una ricetta classica della nostra terra. Bene, poi la spuma al pecorino la vedo colorata di? Beh questo è un gioco che hanno fatto i nostri cuochi, simulando il peperoncino e quindi un peperoncino secco in realtà è fatto semplicemente con una pelle di pomodori cotta ad alta temperatura e quindi poi sbriciolata. E quindi il gioco è quello che sembra all'occhio del peperoncino, in realtà è assolutamente un pomodorino neutro nel sapore. Invece il grado di piccantezza del peperoncino sabino contenuto appunto all'interno del bottone di pasta qual è? Ma diciamo che quando si usa il peperoncino normalmente si usa più come profumo e come aroma che come piccantezza. L'uso del peperoncino come piccante è un uso poco adatto alla cucina e alla degustazione. Quindi in realtà eliminando i semi e utilizzando i profumi prevalentemente della parte esterna del peperoncino si dà una piccantezza sulla parte finale dell'assaggio ma in realtà è più che altro un profumo di peperoncino. Allora Marco dicevi un piatto semplice anche se la preparazione non è insomma velocissima. Diciamo che è un piatto semplice da un punto di vista soprattutto degli ingredienti che sono ingredienti di facile reperibilità. E' chiaro che devi avere cura nel momento in cui inserisci il sugo all'interno della pasta di renderlo un po' meno pieno di acqua insomma perché è chiaro che altrimenti si bucherebbe il composto di pasta. La pasta è una pasta fresca come le facciamo sempre, è una pasta all'uovo fatta da noi e poi il resto diciamo che è abbastanza semplice poi nella composizione. Che tipo di vino proporrai da abbinare a questo piatto per i visitatori che verranno appunto a gustarlo? I vini che potrebbero abbinarsi sono tanti e noi abbiamo anche un'inoteca abbastanza fornita però credo che per l'occasione sia interessante proporre, ce l'ho qui una bottiglia se vuoi te la faccio vedere, è un vino che fanno i nostri amici del ristorante La Foresta, la Cantina Le Macchie, il bandolo della Matassa, il rosè che diciamo è stato premiato anche come miglior rosè del Lazio. Credo che il rosè sia adatto sia per reggere diciamo in bocca un po' di peperoncino, un po' di pecorino che sta nella salsina e poi soprattutto è un prodotto che è fatto qui vicino, è fatto a Rieti, quindi credo che i turisti debbano in qualche modo conoscerlo. Certo, un piatto decisamente delicato e gustoso, tre aggettivi per definirlo? Ma già li hai elencati tutti, oltre ai miei due, diciamo che è sicuramente una ricetta fresca perché il peperoncino è soltanto residuale nel finale e il pecorino è assolutamente, rimane un profumo, ma non è un sapore aggressivo forte, quindi è sicuramente fresca, è assolutamente piacevole in bocca perché è chiaro che il pomodoro insieme alla pasta rimane abbastanza piacevole e poi la cosa più interessante è curioso perché quando lo metti in bocca il tortello, diciamo il bottone tutto insieme, ti esplode in bocca questo liquido che è in realtà l'arrabbiata. Allora, ricetta esplosiva sicuramente. Ok, grazie, grazie a voi. Vi volevo ringraziare perché fa piacere di avervi ospiti nel nostro locale. Marco, allora prima di salutarci direi che è doveroso da parte nostra chiamare però gli autori di questo piatto così gustoso, quindi chiamiamogli chef. La brigata, si accomodi, venga. Lui è Vittorio. Eccoli qui che arrivano. Responsabili della cucina e loro due sono gli altri ragazzi che lavorano insieme a noi, sono gli altri cuochi che stanno con noi, Mattia e Andrea. Lui è un ragazzo che viene da Napoli, mentre gli altri due ragazzi sono ragazzi di Rieti. Ah, ecco, allora da Napoli, da Napoli a Rieti, da quanto tempo sei qui? Io mi trovo qui da circa due mesi, ho iniziato questo lavoro con il ristorante 100% gusto, ho fatto un'esperienza lavorativa alla Trota, ristorante di Divo Dutri. Bene, quindi le garanzie ci sono tutti per la riuscita di una buona cucina? Certamente, ci impegneremo al massimo per ottenere buoni risultati. Bene, e tu invece? Sono di Rieti, dopo alcune esperienze per ristoranti riatini sono arrivato qui da circa due mesi. Bene, come ti trovi? Molto bene. Sono frutto dell'alberghiero. Come? Sono frutto dell'alberghiero di Rieti. Ah, allora anche loro una garanzia, bene. Pronti per accogliere i tanti visitatori di Rieti Cuore Piccante? Il locale sicuramente si riempirà. Certo, siamo molto contenti di poter ricevere molte persone, per questo ci stiamo preparando al meglio per poter sopportare. Bene, allora adesso manca solo la prova del 9, quindi inviterei la nostra spettatrice Lucrezia che è qui in diretta nel corso della registrazione. Vieni Lucrezia, tu sei un amante del peperoncino ma anche del pecorino, allora al volo un boccone pieno, attenta a non esplodere. Un bottone, prendi un bottone e cerca di prendere un po' di condimento sotto. Prendilo con la forchetta così, perfetto. In zuppa bene nella... Perfetto, perfetto. Vai? Vai. Attenta a non esplodere, pronto il telefono per il 115, vigili del fuoco in arrivo oppure no? Facciamo un giudizio. Degusta bene. Allora, com'è questo piatto? Buono. Buono o buonissimo? Buonissimo. Allora un applauso, un applauso agli chef. Sicuro? Buono? Se no glielo facciamo rifare. E allora perché perdere la degustazione di questo piatto decisamente peperoncinizzato ed esplosivo? Marco Pasquali e il suo staff vi aspetta dunque in via Garibaldi da 100% gusto. Buono! 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 Grazie a tutti.